Ciao! Oggi abbiamo coperto gli occhi a Cristian, Cristian non riesce a vedere niente. Che c'hai in mano? Un limone! Bravo, hai visto? Abbiamo appena visto questo gioco dove lui deve cercare all'interno di questa sacca, è una sacca che tra l'altro ha disegnato lui, abbiamo fatto questa sacca con un suo disegno di quando aveva tipo 5 anni più o meno. Sì, 5 anni. E dentro ci sono tanti giochini, tante cose, quindi è un gioco. Eh sì, perché c'è anche la carta igienica, quindi... C'è anche la carta igienica! Un bel gioco! Quindi è un gioco sensoriale, è un gioco sensoriale che però, diciamo, l'obiettivo fondamentale, perché Cristian va quando è piccolino che fa questi giochi, quindi alla fine a livello sensoriale ci siamo. Lui ha sempre messo la manina, sempre detto, c'è la spugna, insomma, tutte le cose che c'erano dentro le buste, insomma, che gli venivano proposte. Ma, diciamo che la sua grande difficoltà era proprio questa, che non riusciva a mettere bandani, che gli coprisse gli occhi, Dico, questa meraviglia di togliere una... Quella, pappellini... Hai visto come ho fatto adesso? Che la rimetto io la metto? No, non c'era proprio... Eh, ragazzi, sembra una cosa semplice, sembra soprattutto, insomma, per i genitori che hanno dei figli normotipo, insomma, magari vedete una cosa del genere, Vabbè, che cos'è? Magari non date importanza, giustamente, perché sono cose, diciamo, naturali, ma per loro è veramente una sofferenza a volte sentirsi coperti, con gli occhi chiusi, insomma, avere delle cose che danno un po' fastidio, ok? Quindi, anche questa è fatta! Evviva Cristian! Chi è il campione di casa? Sono io! Eh, certo! Adesso vi possiamo vedere il gioco! Siete pronti? Il gioco sensoriale con la penda! Avvicinati, avvicinati un po' Così, 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 se li va qui, va bene, va bene, va bene, così non vedo niente! Ora, dammi la manina, metti qua dentro, dai prendi una cosa, che cos'è? Che cos'è? Proba a indovinare, non guardare! Che cos'è? Proba a indovinare! Tag! E tag! E tag! Ha indovinato! E tag! Ha indovinato! Ho indovinato! Vediamo qua! Ecco, dà, A chi tocca adesso? A mamma! Tag! Tag! Papà, papà ma non gioca! Mamma fa il video! Si! Tag! Tag! Me lo presti? Ecco qua! Vado? Vado, posso? Oddio, non trovo il buco qua! Ciao a voi! Dove è il buco, Cristian? Guarda che vedi papà così! Dove è il buco, Cristian? Si, Cristian! Mi aiuti? Metti la mano con papà! Posso? qui si ha un sistema di benda a papà lei e la sistemi la benda a papà che sennò guarda che sennò riesce a vedere sotto questo qui è una pera ma è un limone ho sbagliato papà mia ho sbagliato ho sbagliato limone prima di andare in bagno tieni, vieni con il secondo rum di chi è il turno adesso? a chi tocca adesso? a io a io tocca tocca a me a me tocca a me dai metti qua la manina non guardare non fare furbone non fare popacchione qui eh metti la manina prendi una cosa che cos'è? non guardare che cos'è? Peppa Pig Peppa Pig ma secondo me riesci a vedere con questa benda no non si vede non si vede niente ciao ciao Peppa metti qua Peppa in fila ma lui non ti ha visto quando guarda metti le cose nel gioco ciao io mi chiamo io mi chiamo ciao a voi io mi chiamo Peppa dai metti qua qua Peppa vai vai nel tuo nel tuo nella tua timora tocca a me dove è la busta qui? metti la mano dentro la busta ecco qui aspetta tocca a me aspetta un secondo aspetta eeeh 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 questo cos'è? il corrente il corrente ah no questa è una come si chiama? una presa una presa una presa un adattatore l'adattatore è meglio bravo Cris ecco è indovinato tocca a te vai adesso è più difficile eh man mano che passano i minuti è sempre più difficile ragazzi a chi tocca adesso? a chi tocca adesso? a chi tocca adesso? a chi tocca adesso? a me aspetta 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 metti la manina metti la manina vai dai dai alza la destina così non vedi eh dai dai prendilo 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 che cosa è? che cosa è? non guardare? non guardare? non guardare? non puoi guardare? il treno? come si chiama? il treno? dai mettilo a posta mancano poche cose adesso si fa più difficile eh tocca a me tocca a me ragazzi tocca a me tocca a me tocca a me ragazzi tocca a me tocca a me allora la spazzola ho indovinato? si ho indovinato a chi spazzoliamo con questo? eh? chi spazzoliamo? a papà ora ti faccio io dammi dammi tutto è tutto per me lo fate va bene? vediamo finito il gioco che cosa vuoi fare? guardami dimmi che vuoi fare? possiamo fare un gioco? eh si allora tieni qua un secondo vai uno due e e tre e tre ecco qua non fa il fulvetto eh non fa il fulvetto eh metti la faccia in alto non puoi guardare eh metti la manina e devi indovinare eh che cosa c'è in mano? prendilo che c'è in mano che cosa è? una pigna è una pigna è una pigna ha indovinato tocca a me adesso metti qua la pigna qua vediamo un po' vediamo un po' tocca a me tocca a me tocca a me ragazzi siamo pronti? il papà è pronto adesso il papà è pronto per prendere un'altra cosa vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' una penna giusto? è una penna la pigna una matita una matita una matita una matita ecco dai che mancano soltanto due cose dai a chi tocca adesso? a chi tocca adesso? a chi tocca adesso? a chi tocca adesso? a me vieni qua non fa il furbacchetto non fa il furbacchione metti con la manina metti la manina prendi che cosa è? una chitarra eccola bravissimo nooo qui tocca adesso guitarra a posto su mettiamo la guitarra a posto su ecco tocca a papito adesso mancano soltanto una o due cose posso? vado è il mio turno no questo è il turno lo regaliamo a Cristian vai è l'ultima cosa rimane soltanto una cosa toccate dai vediamo un po' queste cose vai che cosa è? non guardare non guardare non guardare non guardare ma non ha visto lui quando a me sei così dentro allora sei stato bravissimo come sei stato? bravo bravissimo sei stato meravigliosamente bravo facciamo il suo compattimento o facciamo schiaccia e gira che ne pensi? facciamo schiaccia e gira cos'è schiaccia e gira va bene Cristian Cristian mamma lui non vuole fare schiaccia e gira andiamo via dai ora vieni dai dai facciamo schiaccia e gira un piano un piano un piano vieni qua dai piedi dietro dai mani 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 dietro consulta sai pronto dai ooo DI o Illinois le elimine r Buon appetito!